Ciao a tutti, da Pierluigi Pardo ad assistermi come sempre, non c'è bisogno di presentazioni, Giosiela Taffini. Ciao Pierluigi, ciao a tutti, non vedo l'ora che inizi questa partita. Certamente c'è una bella distanza fra le due squadre, tutto poi nel calcio è possibile, ma insomma... Queste dunque sono le scelte dei due allenatori. Eccoci, si comincia. Lì c'è il contrasto, riparte. Mette un buon cross, c'è l'attacco, è stata interrotta, pallone deviato, in calcio all'angolo, buona la lettura difensiva. Chi c'è dentro? C'è campo per andare. C'è la botta là fuori, era una buona possibilità, si è giocata malissimo. Ne sono andati più di 600 secondi dall'inizio della gara. Eccolo. Pisce malissimo, palla che termina sul fondo. Perdono il possesso del pallone. Prova a segnare, presa sicura. Area di rigore. Ha la possibilità di crossare. Grande stacco di testa. E arriva il gol dell'1-0. Ha segnato un gol bellissimo. Sapeva perfettamente dove piazzare il pallone. Non ha avuto un attimo di esitazione per il portiere. Davvero poco da fare. Che cosa fidanzata. Non ha avuto un attimo di esitazione per il portiere. Pallone che non passa. Non va il suggerimento. Arbitro che chiude il primo tempo. Manda le squadre negli spogliatoi. Tempo per recuperare. Tempo per cambiare strategie. Tempo per prepararsi alla seconda frazione. 1-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Vedremo se troveranno la forza per rimettere in piedi questa partita. E comincia il secondo tempo. Cercheranno di trovare l'episodio giusto per chiudere definitivamente la partita. Pisce di testa a liberare. Spara dalla distanza. Pallone che termina altissimo. Occasione sprecata. Siamo entrati negli ultimi 30 minuti di gioco. splendido intervento sul pallone. Rimessa laterale potenzialmente pericolosa. l'allenatore che decide di cambiare qualcosa palla perfetta in mezzo ci avviciniamo agli ultimi 15 minuti dell'incontro prova da fuori nemmeno questa volta ha trovato il gol c'è il lancio lungo stacco di testa, poderoso guadagnano un nuovo possesso veloce ci prova il portiere che non sembrava assolutamente preoccupato scadere, devono darsi una mossa spara pallone che termina l'archissimo alla sinistra della porta ripresa dal portiere ha tentato la conclusione ma non ha impensierito il portiere è riuscito a togliere il pallone all'avversario l'arbitro sancisce la fine dei 90 minuti di gioco 1-0 magari meno spettacolare gli altri volte il risultato ma certamente una buona prestazione di grande è riuscito a togliere il pallone all'avversario